Tutti disponibili per Fabrizio Castori in vista dell'arrivo all'Orogel Stadium di Romanuzzi del Cittadella di Mister Venturato. Sabato pomeriggio il Cesena affronterà la miglior formazione in trasferta. Sono infatti 23 i punti raccolti lontano dall'Euganeo contro i 21 conquistati dai bianconeri tra le Muramiche. È una squadra molto forte in Cittadella. Io all'inizio penso tuttora che sia una squadra che può andare in italiano, ma non subito dopo il playoff perché già l'anno scorso ho fatto il playoff. La squadra gioca a memoria, da tre anni ricalcano sempre gli stessi principi, gli stessi concetti, poi l'ambiente sano, giusto dove si può fare il calcio come stanno facendo loro perché sono bravi. Si è direttore sportivo, allenatore, è una società ormai che ha un'impostazione ben definita e quindi è una squadra che è molto difficile da affrontare. Loro sono una squadra che diciamo che hanno il principio fondamentale che piace a me, quello che c'è che è subito la verticalizzazione. Sono senza fronzoli, è una squadra molto concreta, molto veloce, attacca gli spazi. Quindi ricalca un po' il mio modo di pensare e di fare calcio, dobbiamo essere bravi noi, essere molto compatti in campo, molto aggressivi e fare altrettanto anche noi perché anche noi abbiamo il principio di essere veloci a partire negli spazi, quindi vedremo che tipo di partite uscire fuori. Grazie.